Si chiama Laurel Hubbard ed è la prima atleta trans che apparirà lunedì 2 agosto 2021, pensate, in pedana, in queste Olimpiadi di Tokyo 2021, Tokyo 2020, vengono così chiamate. E' la prima atleta trans, ripeto, a competere in ben 125 anni circa di storia delle Olimpiadi, a origine ozilandese, vicino all'Australia, a 42 anni di età, andrà a svolgere l'attività di sollevamento pesi nella categoria 87 kg, dopo critiche ma anche diversi incoraggiamenti che hanno in qualche modo accompagnato il percorso per arrivare ad un livello del genere, possiamo dire con ogni, chiamiamola certezza, che sicuramente la atleta in questione farà comunque una bella figura. Ripeto, è la prima atleta trans che si paliserà in queste Olimpiadi di Tokyo 2020, o meglio 2021. Bene, sollevamento pesi 64 kg, andremo a vederla lunedì 2 agosto quando scenderà in pedana, oggi è il 31. Ciao a tutti, Dario Anno, Nalatena è tutto, al prossimo video.